Salve, facciamo il punto su Alibaba, titolo seguitissimo da tanti trader, che ha avuto una fase downtrend tuttora in essere, qui siamo sul time frame weekly, quindi dai massimi di novembre 2020 da area 310 dollari, siamo adesso a meno della metà della quotazione, con la candela informazione, ricordo essendo su weekly una candela profondamente ribassista, siamo vicinissimi all'area supportiva dei 138 dollari circa, ma non mi sembra un'area destinata a tenere, vista la forza della candela ribassista attuale, determinata soprattutto dalla trimestrale, mal digerita dai mercati che appunto hanno dimostrato come non vogliono ancora avere o rimettere in portafoglio Alibaba, e se non lo vogliono prendere in portafoglio è perché si aspettano probabilmente di comprarlo a cifre più basse. Quali livelli potrebbero essere addirittura raggiungibili? Graficamente secondo me si potrebbe andare a raggiungere dei livelli molto più in basso rispetto agli attuali, nel senso che abbiamo in essere un canale ribassista che per ora, ripeto, non accenna assolutamente a dare segnali di inversione, e ho messo, vedete, queste due frecce, su questi due minimi, perché? Perché cercando di andare a cogliere un livello che potesse essere affidabile, andiamo addirittura a prendere area 110 dollari, che è un livello dove si vanno a intersecare queste due rette, ed è un livello dove appunto il prezzo al di là di eventuali rimbalzi potrebbe poi approdare, ed è anche un livello estremamente importante perché i 110 dollari erano una resistenza statica fortissima nel 2016, che poi proprio questo livello, anche qui vedete resistenza, che sostanzialmente ha dato in là all'esplosione del titolo, portandolo poi sopra i 300 dollari. Quindi non è probabile, ma credo che va tenuto comunque in conto questa ipotesi perché, se si verificassero, noi qui avremmo un triplo supporto molto interessante in ottica longa, proprio un supporto dinamico, il supporto statico e ancora il supporto dinamico visto come la base di questo canale. Per chi segue e usa Fibonacci va anche evidenziata questa possibilità, e quindi il fatto che, lo andiamo, eccolo qui, a mettere in maniera più chiara per tutti, anche il fatto che dai massimi si arrivasse a questo livello fatto quota 100 di estensione, si andasse a fare il classico pullback, poi al 161,8 che viene ben sentito dalla grilla di Fibonacci con rottura da testa e nuova discesa, il 2,618 che ancora vede il prezzo ballare sopra come supporto, resistenza, di nuovo sopra come supporto, rottura e resistenza, e poi con la candela attualmente in essere si va a perdere anche il 2,618, quindi il nuovo livello euro di Fibonacci e il successivo, il 3,618, eccolo, coincidere con i nostri 110 dollari del supporto statico di lungo periodo. Quindi è un'area, perché chiaramente si deve parlare di aree, vista anche la volatilità del titolo e la volatilità in generale del NASDAQ, chiedo scusa del NICE, in questo caso è un'area che comunque è prendibile ed è un'area dove sarà interessantissimo poi scendendo di time frame andare a cogliere segnali rialzisti con dei pattern sul daily. Tornando per un attimo proprio al discorso del daily, lo vorrei vedere perché non vado a ritenere valido questo supporto di breve che avevo menzionato prima ai 138, sia questo doppio minimo che si sta per formare. Perché veniamo da un gap down fortissimo dato da trimestrale che dimostra proprio come da 160 dollari si fosse passati a 147, quindi come sostanzialmente il mercato in base ai dati avesse detto no, Alibaba con questi prezzi costa troppo, la andiamo a comprare più in basso rispetto ai dati che ha mostrato. Anche i volumi di vendita sono stati altissimi sul gap, quindi sull'uscita della trimestrale, per cui mi aspetto che questo gap possa dare ancora uno spunto ribassista e quindi senza nessuna fretta si vada, almeno per mio agonente, ad attendere aree a 110 dollari. Se non si verificherà, pazienza, non faremo il trade, altrimenti a 110 dollari il rapporto tra rischio di rendimento diventa davvero interessante. Watchlist Alibaba Group dal NICE a 110 dollari senza fretta. Vi aspetto domani alle 10 per il webinar gratuito dove vedremo altri titoli di Wall Street, gli indici e la situazione con spunti di trading per tutto il periodo da qui a Natale, per cui trovate nella descrizione sotto a questo video l'indirizzo per iscrivervi al webinar di domani sabato alle ore 10. Buon trading a tutti!